Avete in servo una serie di incontri proprio per spiegare a tutti quella che è l'azione del Don Orione in tutta Italia? Esatto, infatti la nostra idea è nata proprio per spiegare un pochettino ai cittadini fanesi che oltre ad una scuola già nota, affermata presso il centro Don Orione, ci sono anche altre realtà come la realtà di accoglienza per mamme e una casa per ferie e convegni e tutte queste opere che abbiamo noi nella nostra struttura di Fano esistono in altre strutture a livello nazionale e nelle missioni del Don Orione a livello sovranazionale, quindi l'intento è un po' di far conoscere il Don Orione al di fuori dei confini della città di Fano. Ecco, come avverrà questa conoscenza? Cosa avete in servo di fare? Allora, l'idea è stata quella di appunto creare questa serie di incontri, convegni alla fine dei quali ci sarà la proiezione di un film, avendo appunto come tema quello dell'accoglienza. Quali sono le date, i primi appuntamenti e come saranno organizzati? Esatto, la prima data l'avremo questa prima domenica, 8 aprile, dalle 16.30 con una piccola presentazione da parte dei religiosi dell'opera, alla quale seguirà il primo convegno con una durata di un'ora, un'ora un quarto circa e poi la proiezione del primo film, l'insulto. E chi vuole conoscere il programma degli appuntamenti come può fare? Allora, per conoscere il programma basta seguire il nostro sito www.donorionefano.it, su Facebook, ci potete seguire su Facebook, oppure con le locandine che abbiamo affisso per Fano.